48. L'ho uccisa tutta Ero appena entrata nel carcere come assistente volontaria e al detenuto con cui ebbe il primo colloquio chiesi come sta la sua famiglia? Lui mi rispose L'ho uccisa tutta Commento La famiglia deve rispettare soprattutto i suoi piccoli Questa è la famiglia che non produce mostri Durante l'ora dei pasti deve evitare le discussioni perché i piccoli assorbono le emozioni che i grandi manifestano nella loro interiorità Quando i genitori devono discutere e non possono allontanare i loro figli devono caricarsi di energia d'amore e considerarsi due esseri che si sono amati e vogliono continuare ad amarsi pur nelle divergenze Questa è la famiglia che anticipa quella che i maestri chiamano la famiglia del futuro Questa è la famiglia del futuro Questa è la famiglia del futuro